ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Luke Pack questo è il quinto video di oggi ho iniziato con la Luke Pack poi con Hitman poi con The Suffering poi The Island e non potevo non chiudere con la Luke Pack ancora bene ragazzi spero vi siano piaciuti i video e ora oggi in questo video facciamo l'autocrafting o perlomeno cominciamo a fare l'autocrafting abbiamo bisogno di questo ambar atrattico questo ambar atrattico che era l'autocrafting ma ce ne servono altre poi ci serviranno delle polveri ne prendiamo una e ne prendiamo un po qua facciamo così vendiamo un po di carbone prendiamo questi qui vendiamo tutto il carbone prendiamo questi qui bene ora dobbiamo fare altre cose che facciamo nel meno quattro anche te perché non fate tre si giusto poi 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 allora ci serve del legno ci serve del legno ok e dei bastoncini ok poi facciamo così ne vengono dieci vabbè vediamo un po allora non bastano no queste qui uno due per cui ne servono ancora quattro ancora quattro uno due c'è ancora due scusatemi ok ora siamo a posto di questo fantasma ora lo uccido tranquilli bene 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 le andiamo a piazzicare giù io avrei pensato di farlo qua l'autocrafting e cominciamo a fare 1 2 3 4 va benissimo giusto sì sono le autocrafting perfettico ora 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 ci serve una chest ah sì intanto ho messo i provider anche qua dietro quelle che mi erano avanzati per cui risulta tutto chi dentro chi mi serve una chest poi mi servono altri tubi di stone per cui per cui per cui per ah vetro penso che dovrebbero bastare basta a voglia a voglia allora 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 andiamo giù dunque noi dovremmo fare arrivare questi tubi giù potremmo fare 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 in questo modico in questo modico allora ci serve un tubo normale prima di tutto tubo normale e tubi questi qui così puoi fare così così e scendere di qua perfetto con questi qua normali si si collega lì e adesso li scolleghiamo tranquilli tranquilli ok 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 facetemi pensare facetemi pensare facetemi pensare qui ci mettiamo una chest qui ci mettiamo una bella chest sotto li mettiamo il provider il provider mio figlio sta non so cosa sta combinando ragazzi un provider ragazzi un provider lo piazzichiamo qua sotto perfetto poi li mettiamo quello di stone lo mettiamo qua allora mettiamo quello di stone così porca trota qui non va allora facetemi pensare così così poi facciamo così ci mettiamo questo qui anche te e continuiamo così ora vediamo se funziona ragazzi perché sto facendo un patatrack perfetto questa dovrebbe essere la chest dove ci ci vuole la roba che ci avanza perfettico allora mettiamo i pannelli qua non me li fa mettere non me li fa mettere porca trota ah sì mi fa mettere ah ma allora anche qua possiamo fare più entrati più entrati vabbè poi lo faremo bene allora siamo arrivati qua dobbiamo dividere anche quelli sopra qui dovrei avere altri pannelli di legno no facciamo subito ok perfetto allora uno abbiamo detto sotto là e uno ancora più sotto ancora più sotto e non ce la faccio vabbè vabbè qui magari ci possiamo mettere un pezzo di legno giusto per ok perfetto dovrebbe essere a cavallo o va a cavallo uguale poi riprendiamo i pannelli vediamo se ci arriviamo ah non ho diviso quello sopra porca trota ma ce la faccio ragazzi lo devo dividere per forza perché sennò è un patatrack e infatti non ho diviso proprio quello sopra che pirletta ok ora è diviso via topico ok ragazzi ora scendiamo su scendiamo su se ce la faccio bene 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 e siamo arrivati a questo puntico ora dobbiamo fare dei tubi crafting crafting logistic pipe me ne servono 4 vabbè per il momento sono 3 ora 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 facciamo in questo modo allora andiamo sulla prima crafting e facciamo che il legno diventi legno diventi plank rimettiamo il tubo crafting prendiamo la nostra bella leva e facciamo import ve l'ho già spiegato ragazzi nel mio tutorial poi andiamo sul secondo e facciamo che la legna diventa bastoncini tubo e import poi facciamo che così si fa il crafting table tankete crafting table e ora nell'ultimo facciamo che con i bastoncini si faccia questo coso qui perfetto ci mancano i tubi saliamo giù allora quasi quasi vendo un po' di redstone si dai vendiamo un po' di redstone vendiamo un po' di redstone e ne vengono pochissimi porca trota porca trota vabbè per il momento va benissimo bene ne facciamo 2 ok mi serve mi serve un altro auto crafting ok vabbè 5 da me ne servono 4 perfettico ok questo in mezzo dai perfetto possiamo scendere su andiamo lì ne mettiamo un altro ok ora lì facciamo che mi serve una di queste questi qua e in questo modo facciamo l'auto crafting table ora prendiamo i due crafting pipe logistic e facciamo import in questo e import in questo ora vediamo se ci risulta sulla lista sopra sulla lista di sopra vediamo se ci risulta nella lista della spesa ok vediamo un po' vediamo un po' ecchi telekey auto crafting poi ci risultano le crafting table ci risultano i bastoncini basta fare qua craft ecchi telekey cinque crafting table vedete uno due tre quattro e cinque sono le cinque e vi ho fatto tutto ecco mio figlio mi ha demolito la casa arrivo subito ok scusate l'interruzione ragazzi era non è successo niente tranquilli mi ha solo demolito un armadio mettiamo dentro un po' di legna anzi ne prendiamo un po' di più di legna vi facciamo vedere vi facciamo vi faccio vedere allora raccogliamo un attimo questo qua grazie glielo facciamo in parere non posso farglielo in parere ora si perfetto vendiamo un po' di ferro ok lo rimettiamo qui e andiamo qua tanto giusto per anzi no vabbè che c'è la cesta della legna vabbè ne mettiamo 16 e vediamo che le succede andiamo qui e ordiniamo altre crafting table ne ordiniamo 10 mancano 4 wood con 10 ne facciamo 9 un wood ne facciamo 8 successful andiamo a vedere cosa succede ok arriva la roba si crafta parte la prima secondo poi sapete che faccio un esempio ecco vedete 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 quello stavo dicendo la roba che avanza la roba che avanza se ne va di là se ne va là se ne va là rimane nei tubi per cui è venuto male l'impianto della cesta perfetto nessun problema lo sistemiamo subito andiamo a raccogliere quelli ecco i teleki ora 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 nessun problema rompiamo il tutto ciò grazie ok nessun problema allora 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 perché da qui arrivano per cui per cui ho sbagliato solo questa cosa qui allora dobbiamo fare che da qui arrivano giusto e se ne vanno lì perfetto qui potrei metterla anche nel muro vabbè non fa niente poi vi voglio mettere la cesta in quel punto per cui io la continuo a mettere lì che poi volendo potrei anche rompere qui si ok poi sistemo lì metto la cesta perfetto poi demoliamo sotto e ci mettiamo il provider quello serve sempre poi di qua facciamo uscire col tubo normale o lo facciamo uscire di là uguale vabbè col tubo normale solo che la suonisce non va bene e facciamo 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 così 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 e così ora qua dovrei metterli yes che vuol dire che devono tornare indietro proviamo adesso a vedere una cosa se a me serve un bastoncino voi sapete che i bastoncini con un pezzo di legno vi faccio vedere lui ci da con due pezzi di legno scusate ci da quattro bastoncini se io ne richiedo uno lui ce ne crafta comunque quattro per cui gli altri tre dovrebbero avanzare vediamo un po' ne voglio uno lui ce ne crafta quattro uno me lo da qua vediamo appena arriva se arriva non arriva bene 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 però sono finiti nella chest tre nella chest un pezzo di legno ma non mi da il bastoncino come mai arrivava la legna lì vuoi vedere che è arrivato adesso perché il giro è lungo dei tubi e infatti era appena arrivato guardate ok ora funziona la roba che avanza ci rimane nella chest ecco c'era qui poi ho messo il provider sotto in modo che ci risulti anche la roba di questa chest perfettico ragazzi è tutto perfetto tankete ora lì non ci arrivo infatti perfetto ora abbiamo tutte queste ceste e le possiamo mettere dove vogliamo per poi completare tutto l'autocrafting tankete 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 bene ragazzi spero abbiate capito poi magari me la continuo io o la continuiamo piano piano nei prossimi video dunque 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 15 da Luke è tutto ciao a tutti a Grazie a tutti.